Non ci sei? Ah, 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 non ci sei? Ah, non ci sei? Toooo! Una sincera dedica a chi tramite chiamate, messaggi, mail, piccioni viaggiatori, messaggi in bottiglia ci ha chiesto com'è il Jeepers Meeting. Ve lo venite a vedere com'è il Jeepers Meeting, avete capito? Ve lo venite a vedere. Vedete? No, non vedete un cazzo, ve lo venite a vedere se vi interessa com'è il meeting. Allora, state che chiudo anche di qua. Se mi interessa, è qua, siamo qui a Maggiore, lo sapete, lo conosce, vi l'abbiamo detto, c'è la grigliata, c'è la musica, ve lo venite a vedere, capito? E non ci rompete il cazzo. E vaffanculo. Non ci siete? Non ci siete? No, no, sta da casa, sta da casa, vai. Ma non ci siamo tutti più esque genau qui. Ma non ci siete? No, non ci siete? No, non ci siamo tutti. Grazie.